Pronti per il nostro picnic nello spazio? Il vostro invito mi ha fatto molto piacere! Stai scherzando? Chi ha detto quest'idiozia? Eh, ecco, a dire il vero, stamattina C18 ha ricevuto una chiamata! Da quello che mi è perso di capire, oggi Goku è stato invitato dal Lord Beerus, andranno a fare un picnic nello spazio! Un picnic sarebbe molto interessante! Sì! Picnic, picnic, picnic! Così abbiamo pensato, non sarebbe male se andassimo anche noi! Che ne dici? Puoi prenderti un giorno di permesso? Sì, signora, ha i suoi ordini! E quindi ho chiesto un'intera giornata di ferie! Caro, si può sapere cosa sei andato a raccontare a tua moglie! Volete dire che è tutta una bugia? Esatto, ma sta tranquillo, ti posso spiegare! Scusa, Vegeta, potresti dirgli come stanno le cose? Grazie tanto!